Sono venuto tante volte a Enna a parlare delle scuole di Enna e ne vale la pena, perché sono fortemente convinto che non dobbiamo essere noi andare via dalle nostre terre, ma devono essere mafiosi a andare a sé. Lì la politica... Credo fortemente che la politica deve fare un passavanti, deve scegliere da che parte stare, perché io, la mia famiglia e tutti i testimoni di giustizia in Italia hanno scelto di stare dalla parte della legalità. La politica tutta, perché a volte sembra che siano solo alcuni deliberati alla lotta alla mafia, intanto la lotta alla mafia non ha un colore politico, punto uno. Punto uno deve essere una lotta di tutti i politici, si devono fare le leggi per distruggere la mafia, e che non si deve più attecchire nella nostra terra. E questo è, come diceva Falcone, ci vuole poco, ha avuto un inizio e avere una fine. Ma quando tutti ci ribelliamo, quello che stiamo passando io e la mia famiglia, io sono stato il primo testimone che ha scelto un programma di protezione nella località di origine, e come sicuramente avete letto da alcuni giorni fa dall'Istambi Anche Nazionale, che è stata revocata la scorta alla mia famiglia, e io, pur avendomi ancora riaffermata la scorta, io l'ho rifiutata. L'ho rifiutata e non è un gesto insano o di un demente, perché effettivamente usciamo fuori dal programma perché si dice che noi non rischiamo più. Ma dall'operazione Montagna usciamo l'11 gennaio del 2011, il 22 gennaio del 2011 nell'operazione Montagna, dopo forse una delle più grosse operazioni che è stata fatta in Italia, e il ruolo fuori delle intercettazioni telefoniche, dove invece dicono che aspettano le mafiosi al passo che lo Stato mi lascia solo per ammazzarmi. Io ho fatto una scelta di padre e famiglia, e io ho detto ai mafiosi che offri il mio petto, quindi ho rifiutato la scorta, perché se i mafiosi devono fare del male, devono fare il male del male, non lo devono fare la mia moglie. E io dalla mia bevona della mia sicilia non me ne andrò. Io voglio chiudere così. Non c'è bisogno che chi denuncia deve essere tutelato dall'istituzione, basta che lo Stato lo tuteli. E alle volte ci dimentichiamo che lo Stato mi ha abbandonato. E lo Stato, sapete chi siamo? Siamo noi cittadini. Siamo noi lo Stato. Perché se voi lasciate solo me, lasciate soli tutti coloro che hanno denunciato, ci possono ammazzare. E invece se voi vi mettete davanti a noi, mica ci possono ammazzare tutti. quindi dovete essere voi la nostra scorta. Perché il mio problema deve essere il vostro problema. Ha detto siciliano? Perché credo che qui mi capite, io ho avuto un problema in Altitale. A tutti gli piaci stare nel relobicione, aspettando valage e fanno qualcosa per noi stessi. Se no ragazzi, questo è un gioco facile. Io sono fiero di essere sigiliano e difendo la mia terra. E scusate, ci sta un bello in culo là. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille.